Hanno giocato poco più di un'ora le canatese Tolentino, ma le emozioni non sono mancate. I cremisi, dimostrando per l'ennesima volta carattere ed attributi, hanno rimontato due reti, portando meritatamente a casa un punto pesante che li mantiene in una posizione di classifica confortante, seppur non tranquillizzante. Assolutamente legittimi il verdetto, Ruggeri e compagni ci hanno dato dentro di brutto dopo aver subito il 2-0, creando occasioni, sciupandole, ma alla fine agguantando i risultati e nel finale cercando anche l'esploit. Nel dopo partita le impressioni del tecnico Andrea Mosconi. Il carattere e gli attributi non vi fanno difetto, ormai è assodato. Sì, no, quello è il DNA nostro, il DNA del Tolentino, il DNA del mister che riesce magari a trasferirlo. C'eravamo complicati la partita da soli, su una palla stupida, però penso che oggi se avessi un bettolentino colpito giusto, voler ribaltare la partita, atteggiamenti, secondo me nel calcio contano l'80%, poi viene qualità tecniche, perché tutto il resto, noi abbiamo un atteggiamento tra virgolette da squadra vera, dalla squadra che non si arrende mai, che va oltre le difficoltà e penso che alla fine oggi il risultato sia giusto. Peccato che ci siamo complicati, se no magari è una partita diversa. Sì, avete provato anche un abbozzo di tentativo di vincere la partita negli ultimi cinque? Anche all'ultimo non ci abbiamo provato, anche all'ultimo ci abbiamo provato, rissiando pure per la troppa generosità di una perdita, invece quando recuperi una partita che ha fatto, tra virgolette, un mezzo capolavoro, devi pure capire che è di portare a casa qualcosa, perché questo è un punto pesante, oltre a l'area canadese che non ha fatto tre punti, sei là, hai guadagnato un punto su tutte, è un punto bello pesante. Mastica per l'ennesima volta amaro, la formazione giallorossa schierata con sei under all'inizio ed incapace di mantenere i risultati positivi. Tre indizi fanno una prova e questa squadra palesa, limiti evidenti, tremano le gambe, si commettono ingenuità e fatalmente le tanto attese vittorie non arrivano. Si parte dal 33esimo del primo tempo con i leopardiani che portano in dote la rete di Togolà di un mese fa. Il Tolentino però spinge subito sull'acceleratore, c'è un lungo lancio di Ruggeri che scavalca un difensore, l'ex Padovani appoggia per Tortelli, la cui conclusione sfiora l'incrocio. Il match sembra prendere una piega ben precisa al quinto della ripresa, punizione per gli ospiti, rinvia Gomez di testa, poi magistrale Assis di sbaffo per Pezzotti che si fa a mezzo campo, prende di infilata tutta la retroguardia tolentinate e batte Governali in uscita. Poco dopo Liguori appoggia per sbaffo che tenta ancora l'esploi in rovesciata ma stavolta in precaria coordinazione sbaglia la mira. Esce fuori prepotentemente il Tolentino che costruisce occasioni in serie. Tortelli mette un gran pallone in aria ma Severini da pochi passi non trova l'impatto giusto con il pallone. Ventitresimo ripartenza Cremisi con Assis dal bacio di Severini che Tortelli sciupe in maniera quasi clamorosa. Nessuno però si perde d'anime dal ventiseiesimo punizione calibratissima di Severini. Testa di Padovani, De Chirico ci arriva ma appostatissimo c'è l'Abriola che insacca senza fatica. Al trentasettesimo poi fallo in aria di Ferrante su Minella. L'arbitro concede la massima punizione che Minella trasforma impeccabilmente. La recanatesa avrebbe pure la palla per vincerla. La scodella, la sua maniera pezzotti. Senigallese si fa trovare pronto di testa ma Governali compie una prodezza e salve il risultato. Tolentino decisamente in salute quindi sia atleticamente che moralmente. Duro invece il lavoro di Pagliari che deve rinvigorire una squadra anche vittima delle proprie paure. Servo una scintilla positiva ma le giornate passano e la classifica resta stazionaria e non erano queste. Le aspettative di chi ci ha investito davvero parecchio. Giovanni Pagliari è una squadra che fatica la tua davvero terribilmente a mantenere i vantaggi. Ha successo col Matese, è successo col Pineto, è successo per l'ennesima volta anche oggi. Tre indizi fanno una prova. Sì, sì, questo è un dato oggettivo. Purtroppo dopo il 2-0 siamo messi a non giocare, a subire le palle lunghe del Tolentino dove loro sono molto bravi, noi di meno. Poi sul 2-1 ti prende la paura perché vieni da due pari e hai fatto un rigore così. E questo è, insomma. Si può allenare e lavorare su questo? È una cosa credo anche molto complessa. No, si può allenare che devi vincere una partita per dare più serenità a tutti. Però questa partita, noi tre partite, secondo me potevamo benissimo fare nove punti. Te ne trovi con tre, è normale che c'è i ragazzi mentalmente e logicamente vai giù, no? Questo è un dato oggettivo. Però altre cose io non conosco quello che è il lavoro, l'allenamento e se guidare su questa strada. Cercando di eliminare le paure che non è facile, insomma. Sei under, Giovanni, nell'undici iniziale? Sì, sì, ma ripeto, per me non esiste under e over. Per me se uno è bravo gioca, se uno è bravo non gioca. Si impegnano tutti. Se c'è undici under, gioca undici under. Per me, io so il contrario di quello che pensa la gente comune. Per me se uno è bravo deve avere la possibilità di dimostrarlo e non avere paura di metterli dentro.